La nostra presenza in questa piazza è per dare un segnale politico a tutta la cittadinanza. Il quesito è, vogliamo rimanere nell'euro o vogliamo essere sovrani della nostra moneta per decidere come comportarci con gli altri paesi europei, cosa comprare, cosa vendere, quali parametri rispettare e quindi essere sovrani del nostro potere decisionale, della nostra capacità decisionale. Per questo siamo qui, oggi invitiamo tutti i cittadini ad informarsi. Grazie per la visione!